Napoli, città della creatività. Con questo motto il Comune di Napoli ha presentato questa mattina il Giugno Giovani 2022 nella base navale della Marina di Via Acton, con la presenza di alcune fra le associazioni che animeranno la rassegna. Presentiamo oggi il programma di Giugno Giovani, un calendario di iniziative che coinvolge i giovani con iniziative non solo rivolte a loro, ma create per valorizzare quello che è il loro talento e la loro creatività. Sul sito Il Comune di Napoli trovate l'elenco dettagliato di tutte le iniziative che coinvolgeranno tutte le zone di Napoli, trasformando la nostra città in un palcoscenico naturale pronto ad accogliere tutte le iniziative che possono valorizzare il talento dei nostri giovani. Musica, libri, teatro, cinema, fotografia, sport, visite guidate. Sono più di 80 le iniziative in calendario diffuse in tutte le municipalità. Dal primo giugno partono le visite guidate alla Gaiola, mentre il 2 giugno ci sarà la prima esibizione in largo Berlinguer con un omaggio a Pino Daniele. C'è tanta attività, noi mettiamo insieme tante proposte che vengono dai nostri centri per i giovani, dalle tante associazioni che partecipano a questa iniziativa. Un altro momento di ripartenza significativa per Napoli con il contributo che viene anche dalla città, oltre all'impegno del Comune, c'è grande animazione, grande movimento, grande voglia di fare e di ripartire.